Non è un film tratto dall'ultimo romanzo di H.G. Wells, non è né la guerra dei mondi né tantomeno l'invasione degli ultracorpi, bensì è l'invasione degli emacorpi con tutte le felpe Emma Tube e Jane Andrews, Daniele, Silicius H. Maurizio Di Berti, Giacomo Aga Scrapante e Rossella H. Cucciolo, tutte e tutti con la felpa ematube.com, magliette, emabag, la nuova emabag porta computer, naturalmente tutte e tutti su www.ematube.com, ciao!